A continuare a portare Bruno, c'è stato un fermato da Chiavazzo. Pallone per bianco. Per di palla il Matera. Dai Cicci. Sì sì, Antonazzo c'è la sovrapposizione. Sette giorni fa l'unico cambio ha portato da Grigui, proprio la prima. Anzi, lotta, poi c'è un fallo commesso da Raicic, al limite dell'appagno. Massimo Gotti. Allora intanto è terminato. Poi ci prova Mancuso a piazzare questo destro da fuori a. Bravissimo Paiocco a mettere in angolo. Primo tiro dalla bandiera. Per Coletti. Ha perso palla. Il Matera. Guerra. Ancora Bruno, c'è Antonazzo da quelle parti, ma il cross in aria è di Bruno. Scora. Nessun cambio da parte del Matera. Primo tempo interessante, bello, vivace, veloce. Con i primi 15-20 minuti a favore dell'altro. Allontana con Son, ma attenzione perché il tempo di tiro va a servire, poi Giacchite si gira, il tiro fuori. Non c'è deviazione, quindi si riparcata di messa dal fondo. La casertana con Bianco, il tocco morbido a cercare Giacchite. Giacchite sempre prestato da Cascone che non lo fa girare. Giacchite deve decentrarsi. Ecco Giacchite, salta anche Giacchuma Galli. Adesso va al rilancio lungo. La palla, eccola, per Giacchite. Giacchite ha scunnel di Raicic su Raffaello. E adesso parte Giacchite in velocità, attenzione. Giacchite si fa vedere sulla fascia destra anche Marano. Eccolo servito, Marano la mette al centro. Chi sa il pallone, lo fa ancora con Bianco. Giacchite, che mancoso, invece va su Sissé. Scusate, su Giacchite. Eccolo Giacchite. Prova da girare fra botta, ci riesce molto bene. Su Bruno, il tentativo di cross a cercare Giacchite. Il controllo volante di Giacchite la mette giù per... Che l'Empoli, ecco la sua battuta nel centro. Non riesce a spaziare via la difesa. Prova a girare di testa. Rollare. Capodaglio prova il volo. Sua sventagliata però finisce per favorire Giacchite. Giacchite la mette giù a tre avversari di fronte a sé. E poi Faccini è bravissimo per portargli il pallone con Bruno. Raicic può puntare il tiro. Il passaggio è per... Il gol! Il gol di Giacchite! Che si gira molto bene. Al gol di Raffaello. Dieci minuti più tardi risponde Giacchite. Il toccolo indietro per Bruno. Scivola. Consona, attenzione, mette in movimento Giacchite. Il tocco per la Sisse. Ancora parola di torno per Giacchite. Giacchite ci prova a mettere al centro. A te. Per Chiavazzo. Bianco la mette al centro. Per Giacchite, Giacchite si gira. Il tiro di Giacchite. La parola che finisce fuori di un soffio. Ancora Bruno due volte per Giacchite. Dalterio per il tocco di Giacchite. Perde palla Lischia. Giacchite a destra. Rincorso da... Ottimamente per... Per Kunzi. Kunzi in area. Cross basso sul primo palo. Anticipato da Rainone. Quarto calcio d'angolo. Cross al limite. C'è la testa di Murolo. Poi Giacchite in mezzo a tre versari. Prova ad andare via. C'è il taglio di Bruno. Viene pescato in posizione. Il mercato di Enrico Fedele. Sembra imminente l'ingresso della sfera. D'Alterio. Pallone basso per Giacchite. Terra Carrus. Va via Kunzi. Prova ad innescare Giacchite. Lungo questo suggerimento per Giacchite. Alterio. Per Giacchite. Spaglia alla porta. Terra. Poi la Arza. Ottima questa intenzione. E due. Poi... Carrusano usciata in grado. Bianco. Grossa. Rasa ordinaria. Non ci arriva. Giacchite. Movimento di Giacchite che scambia con Mancosu. Aveva lanciato il pallone in profondità. Emper Eurra su Giacchite. Non riesce a colpire il muro. Il pallone resta lì. Poi c'è la conclusione. La donna. L'ha segnato anche del pari di domenica scorsa. D'Aprilia. Con la loro frescata. In sicuro.